questo video contiene una domanda questa domanda serve innanzitutto a me stesso perché sono arrivato a un punto in cui non riesco più a capire se è un'illusione quello che sto vivendo oppure è un evento della realtà di che cosa sto parlando sto parlando che il 4 5 6 ottobre a scheggia che è un comune a 12 chilometri da gubbio si svolgerà una manifestazione una manifestazione in cui saranno presenti concerti spettacoli teatrali artisti di strada uno spazio chiuso al traffico interamente dedicato per i bambini una mensa e delle persone che possono trovare alloggio con un saccapelo tutti i tre giorni verranno offerti della nostra associazione a 40 euro tutto compreso sei pasti della mensa pernottamenti e l'ingresso a tutti gli spettacoli ma momento centrale di questa manifestazione sarà la consegna di otto contratti di lavoro a otto persone disoccupate ed è qui che mi chiedo se la mia idea è un'idea che davvero funziona o no perché l'idea mi sembra molto semplice è quella di aver capovolto gli elementi in base al quale ragiona il mondo il mondo dice che l'economia rinascerà se avremo una disponibilità economica di soldi monetaria finanziaria io affermo che non rinascerà così l'economia così come la vita la socialità la politica l'umanità la spiritualità rinascerà rimettendo insieme delle persone perché il mercato non è un concetto economico il mercato significa intreccio di relazioni ed è per questo che ho fatto stampare 200 blocchetti e ciascun blocchetto contiene 20 certificati di impegno ciascuno è invitato a mettere il proprio nome cognome cellulare indirizzo email fino a raggiungere 4.000 sottoscrizioni possono essere fatte anche sul nostro sito internet che è www.civiltaitica.it in basso a destra c'è una scritta iscriviti anche tu sulla quale cliccare e poi registrarsi se noi dovessimo arrivare a 4.000 sottoscrizioni avremmo dimostrato che l'economia rinasce dal momento in cui delle persone si mettono insieme a pensare a sognare a camminare tutti nella stessa direzione è chiaro dopo chiederò a ciascuna di queste persone di versare 50 euro di andare in posta e sul conto corrente dell'associazione civiltà etica versare questo 50 euro ma c'è una differenza abissale tra dare 50 euro da soli senza sapere dove si va e dare 50 euro sapendo dove si va insieme ad altre 3.999 persone perché vi assicuro che quando saremo in 4.000 e quando avremo tutti capito con chiarezza il cuore di questo progetto allora dare 50 euro sarà una gioia si correrà la posta perché sarà il segno di aver vinto la scommessa del secolo aver dimostrato all'umanità che l'economia è un fattore di socialità ho chiamato queste 4.000 persone ho dato come espressione il primo social network delle relazioni umane internet è utile ma non è l'ultimo passaggio l'ultimo passaggio che internet deve ritornare ad essere uno strumento per farci costituire un social network delle relazioni umane che riprende contatti con luoghi come questi dove si respira il senso della realtà vera della vita è indispensabile capire che prima va ricostruita la base sociale e solo dopo chiedere un poco a tanti 50 euro a 4.000 persone con questo modello potremo dopo aver dato questi primi 8 contratti di lavoro continuare a moltiplicare le iniziative perché se il modello funzionerà avremo buoni motivi per credere che non solo il 4 5 6 ottobre a scheggia ma anche l'anno prossimo potremo replicare questo piccolo miracolo a scheggia ma anche l'anno prossimo potremo